bella a tutti ragazzi qui è teddy e bentornati qui su youtube è un po' che non postavo anche perché notizie di free agency vere e proprie non ce n'erano io attendevo la firma di davis per fare il video sulle vincenti e sulle perdenti o comunque top 5 e bottom 5 delle squadre che hanno vinto e che hanno perso la free agency invece arrivano altre due notizie che non riguardano anthony davis non riguardano jannis riguardano lebron e riguardano ovviamente lo scambio tra i rockets e i wizards per westbrook e john wall allora prima di incominciare con la trade parlo velocemente della dell'estensione contrattuale di lebron perché in molti su instagram avete chiesto quanti anni ha firmato allora lebron ha firmato un'estensione da due anni il che vuol dire che l'anno questo corrente che era la sua che era il suo ultimo anno di contratto prima della player option dell'anno prossimo viene incluso quindi sono tre anni di contratto tutti gli effetti questo il prossimo e il 2022 2023 ok quindi sono tre anni di contratto appena scade il contratto di lebron parte l'estensione dall'anno prossimo quindi la player option viene inglobata all'interno del nuovo contratto dell'estensione no ok quindi sono tre anni a tutti gli effetti per lebron nel 2023 il figlio bronni il nostro carissimo amato bombarolo bronni graduerà dal college e potrà dichiararsi elegibile al draft e quindi questa scadenza del contratto di lebron non è così casuale ecco la cosa che mi sorprende che sia rimasto ai lakers non che abbia non che continui a giocare ma che sia rimasto ai lakers perché pensavo che tornasse subito a cleveland invece a quanto pare perché secondo me tornerà a cleveland per un ultimo anno un ultimo anno un anno solo non tre quattro anni un anno solo no un anno solo a questo punto secondo me tornerà a cleveland a chiudere la carriera e insomma col figlio cioè nel senso lui l'ha sempre detto voglio giocare fin quando bronni non entra in nba sta rendendo queste parole realtà vedremo comunque per i lakers cosa significa soprattutto cosa significa per anthony davis questa rifirma di lebron james beh io pensavo prima della firma delle estensioni di lebron che anthony davis facesse uno più uno cioè che lui volesse vedere come andava quest'anno e poi l'anno prossimo insieme a lebron visto che hanno lo stesso agente che rich paul clutch sports la stessa agenzia decidessero cosa fare quindi rimaniamo ai lakers andiamo da un'altra parte io me ne vado a chicago io me ne vado a cleveland insomma che sondassero poi insieme il mercato per vedere se c'era un'opportunità di giocare di nuovo insieme oppure se splittare le strade quindi di uno va da una parte uno va dall'altra il fatto che lebron rimanga altri due anni secondo me implica a questo punto che anthony davis firmerà il massimo salariale quindi il massimo numero di anni 5 visto che un'estensione per il massimo numero di soldi non credo che anthony davis firmerà al di sotto a questo punto di un triennale se proprio deve firmare il minore numero di anni possibile è un triennale non ha senso a questo punto per anthony davis fare uno più uno a meno che non sia sua richiesta specifica che vuol fare uno più uno perché vuole comunque tenersi aperto il futuro senza lebron la vedo difficile che anthony davis tenga aperto il suo futuro senza lebron però potrebbe anche essere non lo so non sono rich paul non sono anthony davis io vi dico quelle che potrebbero essere secondo me le alternative le varie strade che si possono percorrere vedendo però la firma di lebron onestamente io non credo che anthony davis firmerà meno di tre anni se proprio deve firmare a tre a al minuto ripeto al minor numero di anni possibile firmerà un tre più uno quindi scade con lebron all'opzione giocatore quindi la rifiuterà e deciderà poi cosa fare se rimanere ancora los angeles oppure se andare in altre squadre alla ricerca di un altro titolo comunque è stata un'estensione un pochino così diciamo improvvisa no non è che se ne discuteva se ne parlava se ne rimuginava è uscita così boom de botto è uscito shams guardate che lebron ha firmato altri due anni così secco va bene parlando di opening night se vi interessa ci sarà durent contro i warriors e ci sarà il derby di los angeles a porte chiuse lo ricordo praticamente quasi tutte le arene nba hanno deciso di giocare a porte chiuse visto il il covid tra l'altro leggevo che 48 giocatori nba hanno sono testati positivi per il covid da quando è finita la bolla e al momento due giocatori dei warriors sono positivi tra l'altro considerando che i warriors erano una delle forse era l'unica squadra che voleva portare i fans nell'arena tramite un tramite un tampone istantaneo che avrebbero fatto fuori dall'arena avere due giocatori positivi secondo me allontana un pochino i sogni dei warriors di avere i fans all'interno della della nba io credo che anche loro si arrenderanno all'evidenza che la pandemia non si può fermare così e quindi credo che anche loro chiuderanno il i cancelli per per i fans visto anche che appunto ci hanno i giocatori positivi non si sa quali non si sa quali almeno io sono rimasto che erano due positivi poi non so se hanno annunciato chi sono i due positivi però non è una bella pubblicità nel senso vuoi portare i tifosi nell'arena e poi c'è giocatori positivi eccola qui parliamo della trade che è accaduta questa notte ovvero se ne era già discusso se ne vociferà questo invece sì questo si vociferava se ne discuteva se ne chiacchierava se ne fantasticava se volete no westbrook a washington per john wall e una scelta al primo giro perché la scelta al primo giro è molto semplice john wall non gioca da due anni quindi per per houston è un rischio quello di accollarsi un giocatore che non gioca da due anni e quindi washington per prendere invece un giocatore che gioca da due anni poi ovviamente possiamo stare a discutere di come abbia giocato in questi due anni comunque per un giocatore che gioca da due anni contro uno che non gioca da due anni chiaramente una scelta al primo giro era obbligatoria per per concludere lo scambio e almeno houston una scelta al primo giro se la prende visto che tutte le scelte al primo giro erano volate proprio per westbrook erano tutte andate in direzione okloma city allora prima di parlare del campo parliamo dei contratti come al solito no perché comunque deve esserci una spiegazione contrattuale all'interno di questo scambio e la spiegazione contrattuale all'interno di questo scambio è la seguente oltre per il fatto che washington probabilmente dovrà muovere qualcosa per per far per incastrare questa trade vabbè pazienza in qualche modo troveranno la soluzione perché in mba una soluzione esiste sempre qualcuno potrebbe dirmi sì ma wall prende meno di westbrook westbrook prende meno di wall hanno contratti diversi hanno cioè nel senso ci deve essere un motivo dal punto di vista contrattuale perché lo fanno la risposta è no la risposta è che sia westbrook sia paul george hanno lo stesso identico contratto se proprio vi interessa posso dirvi che westbrook prende 100.000 dollari in più quest'anno di wall e lo so è incredibile ma sono 100.000 dollari in più per russell westbrook rispetto a john wall però poi alla fine sul proseguimento del contratto wall prenderà di più se vi interessa comunque il contratto è lo stesso ok è lo stesso identico spiaccicato contratto ok tre anni due più uno che era lo stesso di harden ok anche cioè nel senso la scadenza per i rockets era la stessa con westbrook o con wall la scadenza è la stessa il 2023 o comunque 2022 fine 2022 off season 2023 harden e westbrook prima harden e wall adesso saranno entrambi free agent cioè nel senso avranno la player option da accettare o da rifiutare non saranno free agent avranno la player option da accettare o da rifiutare se poi la rifiutano diventano free agent unrestricted free agent possono andare dove vogliono se l'accettano devono stare un altro anno a houston poi ovviamente possono essere scambiati quello ovviamente sempre una è sempre una possibilità quindi da un punto di vista contrattuale non c'è differenza il contratto è lo stesso identico quindi né washington né houston da questo punto di vista ci guadagnano e allora perché questo scambio è stato fatto perché houston e washington avrebbero dovuto fare questo scambio di contrattoni pesanti di giocatori che non volevano più e ho già spoilerato il perché di giocatori che non volevano più all'interno dello squadra è molto semplice come ho appena detto non volevano più nessuno dei due washington non voleva più john wall perché avendo tenuto bill secondo me loro considerano che quest'anno sia l'anno buono per andare playoff visto che voglio dire non credo che indiana farà la stessa storia l'anno scorso poi vabbè ci sono le solite miluocchi toronto boston c'è atlanta quest'anno spero che vada i playoff atlanta perché con la squadra che ha onestamente non andare i playoff sarebbe una catastrofe brooklyn però a parte queste filadelfia quindi sette posti sono garantiti manca l'ottavo onestamente tra bulls ornets orlando e questa queste squadre qui io vedo washington avvantaggiata per la corsa all'ottavo posto rispetto alle altre new york cleveland vedo onestamente washington avvantaggiata quindi con lo spiraglio di poter tornare playoff dove dopo l'ultima volta manco mi ricordo io credo ci fosse ancora i 6 a thomas ai celtics l'ultima volta che che washington è andata ai playoff e quindi si parla di parecchio tempo fa loro abbiano deciso di andare sul sicuro cioè di prendere un giocatore come westbrook che ovviamente houston voleva dare via e quindi c'era già un certo avvicinamento di interessi da questo punto di vista no cioè nessuno voleva wall nessuno voleva westbrook si sono venute incontro ok si sono si sono messe d'accordo ok quindi questo scambio è avvenuto perché nessuno voleva westbrook nessuno voleva wall era le uniche due squadre che volevano che si volevano erano loro due fine non c'era nessun altro che volesse questi due giocatori motivo ulteriore per fare questa trade quindi wall è un rischio sia per houston ma anche per washington forse più per washington che per houston perché houston ha fatto una free agency un po meh cioè nel senso non ho capito bene washington scusate houston cosa volesse fare della sua vita in questa free agency perché ok ha firmato tutti annuali poi ha preso christian wood è stato il primo acquisto che ha primo acquisto passatemi il termine no christian wood ok sign and trade contratto anche anche buono per i contratti che sono volati wood a queste cifre secondo me è una grandissima presa e quindi houston è una partita col piede giusto no era partito col piede sull'acceleratore no ha fatto lo sun and trade con con covington che è vero doveva essere mosso per questioni contrattuali e perché era il miglior giocatore che potevi muovere ripeto alla fine delle finite hanno tirato fuori christian wood quindi forse ci può anche stare però poi iniziato a fare contratti annuali a gente improponibile causis che non gioca anche lui da due anni hanno tirato fuori gerald green dal nulla boh boh non lo so quindi tu prendi contratti annuali al minimo o meglio prendi christian wood tre anni e dici ok va bene 25 anni futuribile poi prendi tutti annuali di gente veterana che è in nba tipo geraldo non si sa bene perché o di giocatori morti e stramorti come cousins che ha tre anni che non vede un parquet nba per infortuni costanti e dici boh poi prendi wall un altro triennale e non prendi john wall per tencare no uno perché non hai scelta al draft anche se è quella di washington ma come vedremo dopo la scelta di washington è protetta ovviamente l'hanno protetta mica so scemi però nel senso se il tuo obiettivo è quello di fare boh ripeto non ho capito bene la direzione di houston quale sia stanno un po' barcamenando stanno un po' rampicando sugli specchi perché questa squadra onestamente non credo che possa essere un pericolo ai playoff a meno che silas non si inventi la squadra della vita e non si inventi una fase offensiva e una fase difensiva della vita ovviamente dipende da come torna wall ma adesso parliamo anche di quello però da un punto di vista prettamente di off season degli used to rockets ci sono un paio di punti di domanda cioè mi è sembrata una sorta di boh retromarcia cioè ok prendi wood che è un giovane futuribile ok perché non mi lavori in quella direzione perché non mi scambi pj tucker e mi prendi qualcosa anche un giocatore giovane non lo so lo mandi che ne so mandano in una squadra da playoff a est ovviamente a est e fatti dare un giovane che magari non ha avuto spazio in quella squadra ne sparo uno a caso è sempre quello il nome langford langford a boston ha fatto ridere o chiunque no ecco se il tuo obiettivo è quello di ringiovanirti non hai scelte al draft quindi non puoi tencare malamente non puoi tencare da far schifo anche se le tue scelte con cloma city sono protette 1-4 quindi tecnicamente dovresti dovresti sperare di prendere le prime quattro al draft per tenerti la scelta ma quello accadrà mi pare nel 2024 se non sbaglio houston ha la prima 2024 e 2026 sono le due protezioni 1-4 o 2022 vabbè comunque non credo già dall'anno prossimo credo fra due anni e quattro anni abbiano le protezioni 1-4 houston comunque per la stapia no devono saltare gli anni comunque perché non inizi a ringiovanirti già da adesso visto che hai preso Wood ok vuoi tenere Arden a tutti i costi va bene ma Arden puoi non scambiarlo volendolo volendo puoi non scambiarlo e infatti a quanto pare Mark Stein dice che non lo scambiano parole di Stein poi se lo scambiano domani date la colpa a chi scrive gli articoli non alle persone come me che li leggono quindi perché non lavorare subito già che c'è la possibilità poi magari lo fanno alla deadline nel senso lo fanno a cosa sarà aprile che ci sarà la deadline magari lo scambiano lì Tucker non lo so però ecco boh boh non lo so non hanno preso una direzione chiara una direzione chiara hanno lasciato un po' di porte aperte va bene ok beh vista la situazione contrattuale di Houston in particolare questa perché alla fine è quella che blocca tutto Houston non prendiamoci in giro è il contratto di Harry Gordon che blocca Houston non saprei per quanto riguarda Washington quindi loro avendo visto la porta aperta per i playoff hanno deciso di entrare a piede a martello e di prendersi Westbrook dicono vabbè Wall è un rischio non sappiamo come torna tra l'altro non so se sapete la storia dei gang signs dove lui era con un suo amico con una mazzetta così di soldi e faceva tipo i segni delle gang e vabbè le scene quasi americane no quelle dei gangsta ecco e era uscito il rumor che Washington non fosse molto contenta di quel video infatti l'hanno tradato per quanto riguarda invece dal punto di vista del campo allora beh Houston prende non dico un doppione di Westbrook però la tipologia di giocatore è quella perché John Wall non è mai stato conosciuto per il suo grandissimo range fuori dall'arco Wall è sempre stato conosciuto per un giocatore con un'esplosività pazzesca che adesso dopo due infortuni di quel tipo voglio vedere è stato considerato era considerato come un attaccante del ferro non stop cioè Wall è talmente veloce che ti batte ti batteva adesso dovremmo vederlo in campo però ti batteva dal palleggio e andava al ferro più o meno come voleva un giocatore che aveva bisogno della palla in mano perché è playmaker per eccellenza Wall ha sempre avuto anche un numero elevato di assist nonostante la squadra che avesse oltre escluso Bill ovviamente bisogna vedere anche qua con Arden come funziona ovviamente è cambiato coach quindi possono cambiare anche le dinamiche della fase offensiva quindi potrebbe trovarsi meglio di Westbrook ma perché è cambiato l'allenatore non perché come tipologia di giocatore si incastra meglio con Wall con Arden è cambiato l'allenatore quindi potrebbe essere che non si giochi più la hero ball di Arden e tutti a guardare ok ma si possa giocare magari una palla canestro diversa visto che hanno preso anche Christian Wood quindi avendo preso un lungo a tutti gli effetti adesso magari ci saranno delle situazioni decisamente diverse rispetto alla Houston d'Antoniana e ovviamente dipende tutto molto da come torna John Wall tra l'altro Arden e Wall si sono allenati insieme in questi giorni eccolo qua ce lo ricorda Chris Mannix in queste settimane in the last few months ecco addirittura mesi negli ultimi mesi la stagione è finita l'altro ieri la bolla è stata chiusa l'altro ieri praticamente Mannix dice che John Wall e Arden hanno giocato in pick up games a Miami negli ultimi mesi tra l'altro ci sono anche i video se volete c'è un PJ Tucker con una canotta da Osolo Marogore con la catenazza d'oro che gioca ho spottato anche un Drammond con una bandana se non ho visto male non ho visto però zaini sulle spalle dei giocatori c'è ok quindi se voglio dire ecco nel senso si giocavano tutti con abbigliamento casual però non ho visto zaini sulle spalle dei giocatori e Chris Mannix ci dice siccome Arden si è allenato ha giocato questi pick up games no queste partitelle 5 contro 5 dunque con Wall evidentemente avrà visto come Wall sta no è vero non sono partite NBA con ritmo NBA con l'intensità NBA che che se ne ma non difendono che che se ne dica non sono partite a livello NBA ok però voglio dire Arden penso che abbia l'occhio per poter stabilire se Wall era uno zombie o era un giocatore credibile potremmo dire un giocatore che effettivamente qualcosa da dire su un campo da basket ancora ce l'ha e quindi Chris Mannix pensa che Arden comunque abbia abbia avuto parola in merito circa questa trade cioè nel senso che evidentemente gli hanno detto noi tradiamo Westbrook gli hanno tradato lo scambiamo non torniamo indietro lui abbia detto vabbè allora a questo punto siccome volete mandarlo a Washington io ho visto Wall posso mettere una manina sul fuoco che è un giocatore che ancora può stare in campo comunque che ancora la sua la può dire quindi potete tranquillamente mandarlo a Washington poi si sono messi d'accordo e l'hanno mandato a Washington quindi ecco insomma diciamo che per un tifoso Houston fa ben sperare questa cosa il fatto che Arden si sia allenato con Wall e che evidentemente evidentemente abbia messo la sua parola per fare questa trade quindi Arden evidentemente ha visto cose buone ha visto cose che gli sono piaciute e di conseguenza avere Wall al suo fianco è meglio che avere Westbrook al suo fianco come vi dicevo prima la protezione esiste non è una trade non è una pick scusate senza protezione è una pick protetta per almeno 4 anni quindi nel 2023 è protetta in lottery 1.14 nel 2024 è protetta 1.12 nel 2025 protetta 1.10 nel 2026 protetta 1.8 se Houston non riesce a trasformare questa pick entro il 2026 diventano scelte al secondo giro ora cosa vuol dire che una trade è protetta 1.14 allora siccome Washington manda la pick a Houston vuol dire che la scelta ce l'ha Houston ma la protezione è di Washington quindi è Washington la squadra da guardare non Houston Houston la trasforma Washington è ancora proprietaria con la protezione quindi cosa vuol dire vuol dire che se nel 2023 quando scadono tutti i contratti pesanti Washington va in lottery quindi 1.14 ok Washington si tiene la pick allora si va l'anno dopo e diventa 2024 top 12 quindi se l'anno successivo Washington fa 1.12 quindi prende dalla scelta 1 alla scelta 12 si tiene nuovamente la scelta e si va l'anno dopo ancora nel 2005 protetta 1.10 quindi se Washington prende dalla 1 alla 10 nel 2025 scatta nel 2026 nel 2026 Washington pertenenza deve prendere dalla 1 alla 8 se queste cose non dovessero avvenire Houston prende la pick facciamo finta che Houston nel 2023 scusate che Washington nel 2023 non va in lottery quindi la pick se la piglia Houston Washington prende la 17 ok Houston quindi si prende la numero 17 perché la protezione era 1.14 vuol dire che gli anni successivi no la protezione è su tutti questi anni ma nel momento in cui Houston si prende la pick la pick scompare ok quindi che sia nel 2023 nel 2024 nel 2025 nel 2026 nel momento in cui Houston prende la pick scompare ok non sono 4 scelte al draft è una scelta al draft protetta in 4 anni se al terzo anno quindi nel 2025 Houston prende la pick nel 2026 niente ok ora parlando della parte rimanente di questa free agency visto che ridendo e scherzando mancano 20 giorni all'inizio della stagione regolare di questa pazza di questo pazzo proseguimento della NBA si inizia il 23 dicembre e e praticamente siamo a due settimane in sostanza dall'inizio della stagione e Anthony Davis deve firmare e praticamente ehm praticamente solo i Lakers possono firmarlo quindi non aspettatevi niente di che Anthony Davis rifirmerà con i Lakers oramai è ufficiale eh domenica è il primo allenamento dei Lakers quindi inizia il training camp potremmo dire no e e quindi deve firmare entro domenica in sostanza entro questa settimana firma appunto eh io pensavo fosse stanotte cioè ieri notte invece a questo penso sarà questa notte qui quindi la notte del del 3 4 eh mentre invece eh Giannis ha fino al 21 dicembre per firmare il supermassimo con i Bucks oppure diventa unrestricted free agent 100% quindi o entro il 21 dicembre firma l'estensione oppure è garantito 100% unrestricted free agent eh l'anno prossimo ultima notizia di oggi di Tim McMahon che dice che ehm fonte dei Rockets quindi non se l'ha inventata lui qualcuno vicino ai Rockets si l'ha detto ehm Houston vuole rimanere competitiva con Arden e non vuole scambiarlo prima dell'inizio della stagione quindi a quanto pare la strada sembra asfaltata per il proseguimento di Arden a Houston bisogna vedere come come torna Wall se Wall è effettivamente quello dei pick up games con Arden oppure se eh a livello NBA con Ritmo NBA è un giocatore che non ce la può fare soprattutto dal punto di vista difensivo anche se è stato comunque quando voleva un un ottimo difensore per quanto riguarda Washington hanno preso un giocatore che non voleva più stare a Houston praticamente è uscito una settimana dopo la fine della stagione che si voleva andare ehm Wall a quanto pare aveva chiesto di essere ceduto anche lui e alla fine è stato tradato quindi alla fine due giocatori che non volevano più rimanere nella loro squadra due giocatori più o meno entrambi a caccia della rivincita Westbrook l'ennesima forse rivincita Wall per due anni in cui è stato distrutto da infortuni certo che cadere dalle scale di casa propria ce ne vuole ehm uno dei due infortuni pare 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 è perché si è caduto dalle scale in casa sua e si sia spaccato tutto ehm non lo so fino a che punto sia vero comunque ehm entrambi a caccia del riscatto entrambi fuori dalle loro squadre ehm Westbrook ovviamente va a est per la prima volta nella sua carriera visto che ha fatto Oklahoma City ehm Oklahoma City e Houston ehm va a est per prendersi playoff per condividere con Billy il parcoscenico che è un giocatore diverso da Arden ritrova Scott Brooks finalmente Cousins e Wall giocano insieme dai tempi di Kentucky ehm visto che sono visto che sono grandi amici Cousins e Wall Cousins è stato firmato da da Houston con un contratto annuale neanche garantito tutto fino alla fine dell'anno quindi potrebbero potrebbero tagliarlo fra due mesi ehm tanto per far capire ehm insomma è una trade che a livello salariale non dice niente a livello in campo potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola più per Washington secondo me che per Houston ehm visto che appunto c'è il punto interrogativo di di Wall ehm bisogna vedere Bill come si complementa con Westbrook visto che Scott Brooks è l'ex allenatore di Westbrook a Oklahoma City quindi forse potrebbe esserci del favoritismo che potrebbe anche rovinare lo spogliatoio nel senso che magari Bill non è contento del fatto che sia stato preso un giocatore ehm appunto che è già stato allenato dal suo allenatore che quindi potrebbe magari ehm dare più la palla in mano a Westbrook potrebbe insomma avere questa sorta di favoritismo potremmo dire ehm c'è anche questa mini non è un portone però una mini porta io la butto lì no? butto lì questa possibilità se se durante la stagione escono dei malumori in casa Wizards ricordatevi di questo fatto e niente ripeto è una trade secondo me più che altro per aggrapparsi al cioè nel senso erano talmente entrambe Washington non è così disperata non è così disperata Washington ehm Houston lo è però anche Washington ehm già il fatto di aver tenuto Bill no? in free agency al draft ehm mette comunque Washington in una posizione di dover a questo punto per forza garantire qualcosa a Bill no? quindi era un po' sotto pressione Houston è sotto pressione da anni oramai no? e quindi era forzata a cambiare qualcosa no? e e Westbrook se n'è andato ehm Washington si è trovata costretta nel momento in cui ha trovato Bill e nel momento in cui Wolf ha quel video gangsta gangsta shit con la mazza così di soldi quello che fuma il cannone ecco ehm quindi ecco entrambe hanno avuto il pretesto per poter fare questa trade dovrà parlare il campo io onestamente la reputo una una sorta potremmo dire di lose lose situation nel senso che ehm Washington di sicuro non si impone sulla carta perché poi la stagione regolare che conta ma sulla carta non credo che Washington si ponga tra le prime quattro a est o che si candidi per il titolo o che ehm insomma dia un boost alle proprie performance o le dia in maniera così netta è vero se Wall torna come cadavere Washington avrebbe giocato con un giocatore in meno ehm quindi anche questo anche questo è vero è da dire però onestamente con con Westbrook in squadra non credo che si passi all'essere una contender né quest'anno né per il contratto rimanente di Westbrook per quanto riguarda Houston ti liberi di un contratto pesante e ne prendi uno uguale quindi se il tuo obiettivo era quello in qualche modo di liberarti ehm o di alleggerire il cap per i prossimi anni non lo fai prendi un rischio un grave rischio un grande rischio visto che Wall non ha giocato per due anni quindi potresti pentirti amaramente di pagare Wall 40 milioni garantiti per i prossimi due anni per avere un giocatore che non è chiaramente in forma per poter stare in campo ehm scade insieme ad Arden quindi devi resistere altri due anni barra tre ok ehm con Arden in squadra ovviamente non puoi permetterti di tencare quindi devi scambiare anche Arden se volevi tencare ma non hai pick quindi devi prendere con Arden però Arden è difficile da scambiare per questo motivo perché devi trovare una squadra con tante pick da poterti dare e con pick che possono essere alte e non c'è quasi nessuno a parte Oklahoma City ma non ha senso per Oklahoma City prendersi Arden no? ecco ehm non quest'anno non quest'anno perché ne hanno talmente tante che magari fra due anni se lo prendono eh magari fra due anni se lo prendono eh gli danno cinque pick future al primo giro che Oklahoma City sta mettendo in cascina fra un paio d'anni Arden accetta la player option un anno di contratto arriva arriva sempre e si dice senti ti do cinque pick al draft più questo giocatore per Arden potrebbe anche succedere e quindi non ci sono squadre al momento che hanno tantissime pick alte da poterti dare anche perché non c'è una certezza di una squadra che tankerà per altri 3-4 anni a parte Oklahoma City ripeto non c'è un'altra squadra in NBA che ti dà questa garanzia quindi tu puoi anche prenderti quattro pick future per Arden però magari poi diventano tutte scelte 20 perché ovviamente se nel senso se una squadra prende Arden è perché vuole competere per il titolo quindi quelle pick al draft con Arden in squadra una squadra da playoff sono tutte pick oltre la 15 e allora prendersi quattro pick che vanno dalla 15 alla 30 per Arden a meno che non prendi due fenomeni giovani allora ok in quel caso ci sta ma se prendi solo le pick più un giocatore in scadenza due giocatori in scadenza tre giocatori in scadenza non ha alcun tipo di senso cioè nel senso tanky per prenderla 17 che senso ha visto che Houston non ha scelte sue visto che Houston non ha pick sue almeno fino al 2025 penso insomma ecco tempi di magra fatemi sapere cosa ne pensate allora sia del rinnovo di Lebron sia di questa trade Westbrook Wall secondo voi cambia qualcosa Houston cambia qualcosa Washington chi ci guadagna chi ci perde ci perdono entrambe vincono entrambe non lo so io vi ringrazio vi saluto in attesa della firma di Davis e poi ci sarà il video sulle vincenti e sulle sconfitte sulle perdenti della free agency ci vediamo a un prossimo video un prossimo video